è stato trovato morto ugo spano a 73 anni di saroc del quale si erano perse le tracce lunedì mattina l'uomo è stato trovato morto nella giornata di oggi non è ancora chiaro quando risalga il decesso per quale ragione sia avvenuto al momento l'ipotesi più probabile è un malore dopo due giorni di ricerche il corpo è stato trovato nella zona che dal parco pubblico conduce al nuraghe sadomu e sorcu